Good morning a tutti voi e buona giornata. Capitolo 14, versetto 25. Una folla numerosa andava con lui e gli si voltò e disse Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siete prima a calcolare la spesa e a vedere se hai mezzi per portarla a termine. Per evitare che se c'è tale fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Un Vangelo molto forte, un Vangelo in cui Gesù chiede tanto. Gesù chiede di non essere un soprammobile. Scusate l'esempio, ma... Gesù non chiede di essere come uno di quelle cose di famiglia che uno tiene lì col famoso vaso della dinastia Ming, le tazzine del matrimonio che non usa mai. Ecco, la fede deve incidere nella vita. Cioè, e non si tratta di una graduatoria. Se noi leggiamo questo brano all'interno del Vangelo tutto, noi capiamo che non si tratta di una graduatoria. Cioè non si tratta di dire Dio al primo posto, al secondo, al terzo, al quarto, no? Perché nell'amore non può esserci semplicemente una graduatoria. Gesù cita questi affetti per dire guarda che io pretendo, desidero essere per te, nella tua vita, qualcosa di simile all'importanza che ha un padre, una madre, un figlio, un fratello. Quindi delle cose grandi. Ma non è una graduatoria. C'è una cosa che racconto ogni tanto che mi infastidiva. Da bambino, quando andavo con mio papà in giro a fare, accompagnare lui, che era veterinario, a fare le visite, ogni tanto c'era, me lo ricordo molto bene, c'era qualcuno che mi domandava ma vuoi più bene alla mamma o al papà? Ma che domanda stupida è! No? Cioè poi, vabbè, non lo dicevo perché cercavo di essere un bambino educato. Ma tra me e me pensavo ma che domanda mi fai tu che sei adulto, tu che sei grande? No? Quasi che appunto si possa fare una graduatoria. No! Allora, Dio vuole illuminare le nostre relazioni. Ma non è, come dire, non vuole l'esclusività. L'abbiamo imparato due domeniche fa quando, qual è il comandamento, quello grande, amerai il Signore tuo Dio e poi ce n'è uno simile che amerai il prossimo tuo. Ecco, e qui rivaltiamo la situazione, no? Se noi pensiamo agli affetti più cari, Gesù dice, ecco, guarda, che il rapporto con me, il rapporto con Dio è qualcosa di simile ai tuoi affetti più grandi. Cioè, quindi deve prenderti il cuore, deve incidere. Bene, mi sono già dilungato, lasciamo stare la seconda parte. Le cose belle della giornata di ieri. Abbiamo avuto una lunga formazione con l'Associazione Gli Argonauti sul nostro progetto per una casa, un co-housing per anziani. Siamo ritornati su tante cose e abbiamo lavorato tanto. È anche una formazione faticosa, no? Perché dalle nove all'una e dalle una e mezza alle cinque. Ma è così che, come dire, che ci si appassiona. Perché i sogni che uno ha, tu tutti i giorni devi ritornarci su. Altrimenti ti stufi e i sogni non si realizzano. Questa è stata una cosa bella della giornata di ieri. e ho ricevuto anche altri doni. Una torta, una bottiglia di vino, del sushi per cena. E quindi ringrazio tutti. E anche dei messaggi. Ecco, ringrazio tutti coloro che in questi giorni, una telefonata, in questi giorni, insomma, mi pensano e me lo fanno sapere. E grazie anche a tutti voi. A tutti coloro che ogni giorno anche commentano e danno lode a Dio. Ale, buona giornata!